Questo libro, non è un classico libro di critica d'arte, né un catalogo e non ha nessuna pretesa esaustiva, storica o documentale, è semplicemente la piccola storia di un'amicizia tra un artista e un poeta con molte affinità artistiche e umane. La piccola storia di una contaminazione. Troverete nel libro, una sorta di carteggio intimo e segreto, alcune curiosità, carte calligrafiche, poesie da me dedicate ad Anna, alcuni preziosi suoi inediti poetici, foto dei suoi lavori e cataloghi, lampi di verità ed incontri, che hanno accompagnato questi anni di amicizia e contaminazione poetica e artistica, che ci hanno portato a realizzare alcuni lavori insieme o meglio Anna ha preso a pretesto ogni tanto, la mia poesia per realizzare alcuni splendidi libri d'artista e la valigia della creatività.